Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video un po' triste Un po' triste, un po' triste perché parliamo purtroppo di Boom Beach Boom Beach Frontline, se non so molti di voi, penso mi abbiano seguito anche per questo gioco È un gioco che io ho portato sin dal momento zero, sin dal momento del primo spoiler E ha sempre un po' caratterizzato il mio canale, nei tempi nel quale non sapevo magari che contenuto portare Sono qui per darvi un brutto annuncio perché non so se l'avete visto ma ve l'ho già annunciato nel video shorts di un po' di tempo fa A proposito, sto pubblicando un sacco di video shorts, inoltre li pubblico anche su Instagram e TikTok Quindi eventualmente andateli a vedere Sostanzialmente il gioco è stato cancellato, cancellato definitivamente Quindi entra in questa serie mortuaria di videogiochi quali Everdale, quale Clash Quest e quali anche Boom Beach Frontlines Sono qui per darvi questa notizia, quindi iscrivetevi al canale, attivate la campanella Se siete interessati ad altri giochi Supercell, se no, amen, però fatelo e condividete con i vostri amici Per la giornata un po' particolare utilizziamo anche l'overlay di un altro gioco morto Che è Bombergrounds Airborne Che ha fatto molto successo ai tempi E attualmente l'ho eliminato dal mio dispositivo Non lo sto più utilizzando, quindi niente Purtroppo non ho Boom Beach Frontlines installato Anche se penso che non si possa attualmente entrare Però comunque se puoi entrare certamente non hai grandi probabilità di poter fare grandi cose Perché il gioco è verso la morte, quindi penso che ci siano delle limitazioni E tutte queste qua Nonostante tutto, nonostante tutto, sono qui per dirvi e farvi vedere soprattutto Questa cosa qua Adesso ve la faccio vedere Guardate qua, vi dico soltanto questa cosa Guardate qua Se noi andiamo su Clash Se andiamo sul profilo di Boom Beach Frontlines Che trovate qua, molto molto easy Guardate qua, Boom Beach Frontlines Esattamente Esattamente Ecco, Boom Beach Frontlines Ha annunciato quello che è successo Ok? Ha annunciato quello che è successo E quello che è successo non è un qualcosa di troppo bello Perché vi farò vedere una roba Vi farò vedere una cosa abbastanza triste Allora, sostanzialmente Quello che è accaduto È il fatto che Se andate a controllare Nell'ultimo post Loro scrivono Hello Commanders We have made the very difficult decision To add the development of Boom Beach Frontlines Quindi hanno ufficialmente distrutto Quello che è Boom Beach Frontlines Un gioco sicuramente molto molto interessante Che ha fatto un po' la storia Pubblicato da Space Ape In collaborazione naturalmente con Supercell Che gli ha concesso gli ambienti di Boom Beach Ma la notizia è veramente triste Perché Quello che ci viene detto È sostanzialmente il fatto che Abbiamo dato Hanno fatto il possibile Era un gioco ragazzi Che obiettivamente Aveva del suo Cioè Non potete dirgli niente A Boom Beach Frontlines L'idea c'era Il gioco c'era Ragazzi L'unico problema di Boom Beach Frontlines È stato il fatto Che È stato aggiornato poco Hanno dato il massimo Cioè più di così Non potevano far niente Sono arrivati in un momento Nel quale Dovevano prendere una decisione La decisione che è stata presa È drastica Perché adesso Vi andremo Andremo a commentare assieme Quello che è Il post ufficiale Reddit Sul loro Reddit ufficiale Che sostanzialmente scrivono Ciao Commanders Andiamo a farvela molto molto rapida Comunque Nel dubbio si può fare anche così Facciamo una traduzione Molto 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 Alla veloce di quello che c'è scritto Ma Se andiamo a leggere C'è scritto Ciao Comandanti Dopo un anno pieno Di epiche battaglie In soft launch Guidando carri armati Vi ricordo ragazzi Che Boom Beach Frontlines Era in soft launch Ed è stato pubblicitato Da Ciccio Gamer Nell'agosto E Quindi hanno deciso Di metterlo In Pausa Dovuto al fatto Che Ragazzi miei Stavamo parlando Di un gioco Che Era in soft launch Quindi era prossimo A un lancio globale E invece Questo è quello che è successo Hanno sempre Fissato degli standard Abbastanza elevati Per farvi capire Bitstar E proprio di SpaceApe E hanno Fatto il possibile Hanno ridisegnato tutto Hanno fatto quell'altro Hanno seguito I feedback Degli stessi utenti Niente Non sono riusciti A A avere le aspettative Che Che volevano E Ringraziano tutti Ringraziano coloro che hanno Pubblicato i contenuti Su YouTube Su Twitter Su Discord E E un po' tutti Nel I server Verranno Ufficialmente chiusi Il 16 gennaio Del 2023 Avete ancora tempo Per Per giocare Per gli affezionati Naturalmente Se Se non sapete Come si fa Ad installare Trovate qua Nelle schede cliccabili Proprio il Contenuto A riguardo Il video E la playlist Che vi permette Di Di capirlo E Ci sarà una breve pausa Verranno disattivati Gli annunci in game Verranno bloccati I nuovi download Quindi Se Non l'avete già scaricata Mi sa ragazzi Che Non ci sarà la possibilità Di giocarlo Dalla stagione 14 Il Premium Beach Pass Diventerà gratuito Quindi avremo Il Beach Pass Gratis E E coloro che hanno Naturalmente Utilizzato il test flight Quindi quelli come me Che avevano avuto Addirittura L'accesso anticipato Queste cose qua Hanno Diciamo La possibilità Di Di accedere Fino al Primo dicembre Il 16 gennaio Vengono Le vengono Chiusi di server E c'è scritto Il trasferimento Di due Questi in gem Mi rivolgo A coloro Che hanno avuto Diciamo L'opportunità Di shoppare Delle cose All'interno Di Moon Beach Frontlines Ascoltate bene Questa parte qua Quello che si può fare È contattare Il team di supporto Che si può andare A trasferire Codesti giochi Cioè codesti gem Che avete sbloccato Si possono trasferire Su Beatstar Su Transformers Su Earthworld Su Rival Kingdom Su Renation Flashline World To Revenge Per Per farlo Vi basterà andare nel gioco Schiacciare sulle impostazioni Contattaci E sapere il gioco Nella quale vogliamo Appunto Diciamo per avere Avuto la possibilità Di fare Di trasferire I dati Inoltre ringraziano Supercell Per avergli ceduto Il marchio Il marchio Moon Beach E E niente Il team imprenderà Apprenderà qualcosa Sicuramente da queste esperienze Eccetera 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 Bluto annuncio Spero comunque Di essere stato chiaro Su come recuperare I soldi buttati Che è la cosa che Un po' mi premeva Dato che Molti di voi Gli ho visti un po' Impauriti Su Su come effettivamente Puoi raggiungere L'obiettivo L'obiettivo Ecco Ufficiale E Questo è Spero che comunque Abbiate capito E Noi ci vediamo domani alle 14 Vi ricordo stasera Usciranno dei video shorts Quindi non ve li perdete Perché Cioè Voi Veramente Perdete queste cose qua Che non dovete perdere Quindi non le perdete Ciao belli miei Vi Vi do un bacione E Restate sintonizzati Perché domani Esce un videone Grazie a tutti Grazie a tutti.